Michael, eccolo! Michael, viene verso di te! Esci subito dall'acqua! L'apriti! Eccolo! Avanti! Avanti, forza! Michael, tiratelo su, tiratelo su! La tempia al braccio! Tendiamolo qui, forte mio, piano! Ci serve un lancio per fermare l'emorragia! È una brutta ferita! Teea! Oddio! Teea! Uno squalo! Vieni! Fresco, torna qui! Tema, te la guardia costiera! Vanno a uscire i bambini dall'acqua! Mamma! No! Soppa! No! 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 Teo! 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 Muovetevi, fate qualcosa! Teo! Teo! Fate presto, presto! Teo! No! Teo! Portiamo in arriva, presto! Apprendiamoci! Può tornare! No! 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 Michael accendi un momento, voglio fare una prova Ti hanno mai detto che sei matto? Ah, lo dicono sempre In teoria, se reagisce ad impulsi elettrici esterni Dovrebbe reagire a un impulso che arriva dal suo interno Dobbiamo farlo diventare pazzo Avanti, prova Bene Sembra scomparso Sembra Sembra scomparso Sembra scomparso Sembra scomparso Credi che funzionerà? Funzionerà Se Jack l'ha detto funzionerà Questa scarica lo farà impazzire Sì? 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 Vira di bordo Helen Helen! Vira di bordo Si viene addosso! Attenza! Figlio di puttana! Tutto bene? Sono qua! Michael! Michael! Jack! Michael! Hai un minuto! E' Jack! Che figlio di puttana! Che figlio di puttana!